Ragazzi se non ve lo ricordate mi raccomando iscrivetevi al mio canale Fizzi MK Così anche le campanelline e tutti i video che vedete mettete un bel like Ebbene ragazzi sono Fizzi e oggi cosa giochiamo? Noi appunto oggi vi insegnerò a scaricare le cose gratis ragazzi Se volete una cosa gratis non sapete come fare Venite in questo video ragazzi venite in questo video e fatelo vedere ai vostri amici che ne hanno bisogno Allora prima di tutto andiamo su store se ce l'avete qua fatela qua anche se ce l'avete qua Andate su store andate qua e scrivete Beh se mi fa scrivere E dobbiamo scrivere Free Free To Play Free to play Mettete invio E vi usciranno tutti questi giochini gratis Ne scaricate uno Poi andate su app e lo avrete qua E da me è tutto ragazzi quindi Bella